Ciao ragazzi! A una settimana dall'uscita di Android Wear 2.0 basato su Android Nougat 7.1.1 posso finalmente stillare una mia opinione. E purtroppo non è al di sotto delle aspettative, le ha proprio distrutte. Prima però facciamo un attimino una carrellata sulle aspettative e sulle buone cose di questo nuovo Android. Che cosa è che è cambiato? È cambiato tutto, è cambiato praticamente la filosofia con cui è concepito un orologio smartwatch con Android Wear. Questo perché precedentemente ad Android Wear 2.0 l'orologio era soltanto un sistema di interfaccia con il cellulare. Era anche comunque limitato il numero di cose che potevamo fare tramite il nostro orologio, principalmente quelle comunque più smart, quindi rispondere alle chiamate, rispondere ai messaggi, chiaramente vocalmente non c'era una tastiera, non c'è niente di tutto questo su uno schermo così piccolo. E far partire Google Maps con le indicazioni sia da piedi che da macchina, quindi non mancava in realtà niente in particolare. Però qui hanno voluto fare proprio qualcosa di più grande, hanno fatto un passo. Che cosa compare in Android Wear 2.0? Sicuramente Google Assistant, quello migliorato insomma. Google Fit anche lui migliorato, streaming diretto della musica, quindi senza dover fare download o passare da smartphone, direttamente collegarsi a una cassa Bluetooth. In futuro Spotify, inizialmente comunque sicuramente Google Play Music, Android Pay per pagare, per chi avesse l'NFC, e Google Play Store integrato, che questo diciamo è un pochino il punto chiave delle novità. Quindi potremmo sfogliare le applicazioni per Android Wear direttamente dallo store presente sull'orologio. Mentre prima, per chi non lo sapesse, dovevamo andare nello store di Android normale dal cellulare e cercare quelle applicazioni specificamente che fossero appunto compatibili anche con Android Wear. Si installava l'applicazione sul cellulare e veniva creato una specie di link, ma in realtà era un'interfaccia, anche sull'orologio. Poi che cosa abbiamo? Quadranti, i quadranti sono cambiati. Cominciamo a vedere. Sfogliare di qua, destra, sinistra. Ok, adesso ho solo questi. Comunque posso configurare quelli che voglio e impostarli. Eccolo qua. Molto belli, indubbiamente molto belli. Possono anche essere configurati. Questo mi è piaciuto davvero tanto, nel senso che poi, eccolo qua, possiamo modificare le cose che compaiono. Tipo voglio qui il calendario, però soltanto decidere qual è il prossimo evento da visualizzare, ma non due eventi più avanti o cose del genere. Il che mi porta comunque indietro al mio watchmaker, watchmaker pro, per creare appunto le interfacce proprie. E quindi non è che abbiamo fatto così tanti passi avanti come sembra, anche se è carino il fatto di poter modificare anche schemi colori, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, ok, bello, senz'altro molto apprezzato. Tuttavia, tuttavia, ho pensato una cosa. Alla fine a me serve o non serve cambiare continuamente, ossessivamente il quadrante del mio orologio? Probabilmente è una di quelle cose che fate appena comprato l'orologio, ma dopo un po' vi stabilizzate sul quadrante con cui vi trovate meglio e periodicamente cambiate. Non di sicuro una di quelle cose da cambiare spesso, spessissimo, più volte al giorno con una semplice gesture. Invece, se avete notato, lo swipe verso destra dal menu home, cioè dalla schermata dell'orologio, non apre più il menu applicazioni. Infatti, ora è necessario premere il tasto fisico. Cosa che qualcuno reputa positiva, qualcun'altro negativa, a me non fa impazzire. E poi, vabbè, bello il menu dell'applicazione. Nuovo, aggiornato, ok, tutto molto carino, effetto bolla, come vedete. Andiamo a vedere, finché siamo qui, il Play Store, che sarà qua. Eccolo qua, Play Store. Quindi, vedete, comunque è molto più ricco di funzionalità. Ci mette un po' a caricare, anche perché questo è un LG G Watch R. Non è un dispositivo di quest'anno, neanche dell'anno scorso, ormai comunque ha i suoi annetti. E qui ci sono app essenziali e quant'altro. Vedete, comunque è stata ridisegnata tutta la grafica, in realtà, perché se vedete, ecco, da qualsiasi menu, da qualsiasi applicazione, posso tirare giù una tendina specifica, più o meno specifica dell'applicazione, e da qui si può installare direttamente. Scusate, è fuori fuoco. Va bene. E questo, fondamentalmente, in realtà è tutto ciò che c'è di nuovo. Ma parliamo un attimino del perché Android Wear 2.0 fa così schifo. Perché non è più smart. Questo orologio non è più smart da quando ho installato gli aggiornamenti e sicuramente se non vengono rilasciati aggiornamenti correttivi, almeno per le prestazioni, come anche per alcune cose che stiamo per vedere, io dovrò tornare indietro, fare un downgrade ad Android Wear. 1.5. Ad esempio, ora state a vedere con quanta latenza e mi risponde al... Ok, Google? 1, 2, 3, 4... Contate, contate perché ha percepito il comando. Si spegne lo schermo come se stesse morendo. Eccolo qua l'assistente di Google. Tocca per parlare. Come tocca per parlare? Cioè, cosa? Ok, va bene. Ok, interagiamo. Meteo di oggi. Ragazzi, questo è il pezzo forte, mi raccomando. 55 gradi. Beh, oddio. Va bene che in questi giorni è tornato il caldino, però probabilmente 55 gradi è un po' eccessivo. Sono stato su weather.com, che come vedete è da dove si rifornisce. E questi sono gradi Fahrenheit, non gradi Celsius. Quindi non capisco perché debbano aver sbagliato anche questa cosa. Ipotizzo che, probabilmente se in America usano il Fahrenheit, questo aggiornamento non sia stato ottimizzato al di fuori del USA. Ok. Non mi fa piacere saperlo, ma non fa niente. Sarà qualcosa di risolvibile. Però il problema è che è troppo, troppo lento. Proviamo qualcos'altro. Ok, Google. Ragazzi, ma tutte le volte. Manda un messaggio con WhatsApp? Niente. Niente. Il tempo è tale, è così tanto il tempo che ci mette ad attivare l'assistente che ogni volta ci costringe appunto ad andare in timeout e premere il tasto tocca per parlare, perché altrimenti in automatico. Io questo lo trovo molto comodo perché alla guida, dovendo appunto guardare poco il cellulare o l'orologio e molto la strada, potevo parlare normalmente e dare istruzione al mio orologio. Ora questa cosa diventa più difficile perché richiede, richiede molta ma molta più interazione con l'orologio. Vediamo. Ok, Google. Manda un messaggio con WhatsApp a Imu. Stavolta è partito un attimino prima l'assistente. La prima attivazione comunque è sempre la più tragica. Immagino che sia un discorso di ciao, come stai? Vabbè, lasciamo perdere il punto di domanda. Ok. Ragazzi, ma come? Annulla o invia. Nella versione precedente c'era un invio automatico dopo 5 secondi. Potevamo annullare entro 5 secondi premendo lo schermo o altrimenti di default veniva inviato il messaggio. Ma che senso ha avere un messaggio a cui devo comunque premere invia? Tac. Perché altrimenti non lo invia? E questo lo trovo parecchio scomodino. A parte il fatto che molte volte, a differenza della versione precedente, pare che non funzioni perché effettivamente tante volte il messaggio non viene proprio inviato. Ma non solo. Non arriva proprio a WhatsApp. Ora in questo caso sono stato fortunato. Sto vedendo, controllando sul mio cellulare e vedo che funziona. Vedo che l'ha inviato. Ora, tra poco mi risponderà e vedremo come funziona il sistema di risposta. Ecco, vediamo qua. Ha già risposto. Bene, grazie. Rispondiamo. Quello che mi aspettavo era magari che partisse una composizione vocale per poter rispondere. Effettivamente però c'è questa opzione. Tutto bene, bene, bene. Ah, ok. Vabbè, non male. Ha preso sul soltanto ok. Ma torniamo un attimino indietro. Vediamo un attimino. Possiamo anche rispondere con un emoji. Ok, prima questa cosa era comunque di default, era comunque possibile. Però era, diciamo, abbinata al vocale, appunto, alla composizione del messaggio vocale. Oppure, novità che è stata introdotta, questa l'apprezzo, però comunque dovrebbe di default essere sulla risposta vocale, secondo me. E non che ogni volta che faccio rispondi, devo anche stare a selezionare il metodo con cui voglio inviare. Qualcuno potrebbe dire che la tastiera non sia comoda. Effettivamente non è la cosa più comoda del mondo su uno schermino così. Tuttavia, è abbastanza precisa. Ma il vero trucco che la rende utilizzabile è la tastiera swipe, appunto. Molto bene. Come vedete scrivo senza difficoltà perché uso lo swipe e quindi non serve la precisione massima. Tuttavia resta il problema che mi richiede tanta 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 interazione con lo smartphone. Con lo smartwatch, scusate. Altre cose che non mi fanno impazzire è che se io ricevessi una chiamata, posso soltanto agganciare. Non posso rispondere. Prima c'era la possibilità di rispondere o agganciare. Adesso c'è soltanto il simbolino per agganciare. Quindi non posso più rispondere. Ok, direte, questo è uno smartwatch, non ha le casse, in questo modello in particolare, non ha nessun apparato di viva voce, quindi anche rispondere sarebbe inutile perché rispondere è col telefono. Sì, però se io nel telefono ho un impianto bluetooth collegato in macchina, ho già risolto il problema. Ora, per rispondere a una chiamata quando sono in auto, devo comunque prendere in mano il telefono. E allora qual è il senso di avere uno smartwatch che richiede tutta questa interazione con lo smartwatch stesso e non è più smart, non è più veloce, scalda parecchio di più, la batteria dura meno. Al di là dei problemi di prestazioni c'è proprio un problema di concetto dietro. Quello che hanno cercato di fare è rendere lo smartwatch una cosa indipendente. Dall'altro canto sembra di usare un cellulare, però più lento e più piccolo, più scomodo. Ci sono tante piccole cose che non mi piacciono assolutamente. Se Google non corregge il tiro, almeno con le risposte vocali, almeno sulla possibilità di rispondere di default con la voce, a meno che non scelga qualcosa di diverso, è veramente scomodo e non vedo il perché dovrei avere questa serie di funzioni molto fancy ma molto inutili come cambiare quadrante ossessivamente. Mamma mia, a parte con i suoi tempi. Rinunciando comunque alla possibilità di avere uno smartwatch efficiente che fa tutto quello che gli dico, che mi ricorda le cose, che posso rispondere alle chiamate. Insomma ragazzi, il mio consiglio per adesso è non aggiornate assolutamente ad Android Wear, anche perché per tornare indietro non è assolutamente semplice. Non c'è un tasto click, downgrade, rollback dell'aggiornamento. Dobbiamo per forza collegarlo a una shell ADB, scaricare dei file, fare procedure manuali di flashing. Quindi se siete ancora in tempo e non avete ancora aggiornato Android Wear, non vi consiglio di farlo. Quanto meno sappiate cosa vi aspetta. Se invece avete fatto l'aggiornamento ad Android Wear, fatemi sapere se sul vostro dispositivo e quale è il vostro dispositivo sta funzionando meglio di così. E soprattutto se anche voi avete problemi con il meteo, con la risposta alle chiamate, credo che in questo caso l'aggiornamento sia stato rilasciato con un po' troppa fretta da parte di Google. Questo è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video!